Formiche sul pavimento sudicio dei polembolatori di via Butera. Cumuli di cicche e di sigarette quasi addobbano in ospedale le improvvisate sale di attesa. Sedute sporche, entratti di velte, diventano luogo ideale di osservazione del declassato ospedale di via Palazzi, diretto da Luciano Fiorella, dove a farla da padrone è il degrado. Quell'apparente abbandono non lascia nemmeno presagire l'idea di trovarsi in una struttura sanitaria pubblica. Non è solo una questione di locali maleduranti, manca anche la percezione della condizione igienica e strutturale che ogni struttura sanitaria deve avere. Lo scenario offerto ad ogni utente è disarmante, fatto di pareti sporche caratterizzate in molti tratti, troppi, dal cedimento dell'intonaco e di porzioni delle stesse, da un controsuffitto discontinuo per la mancanza di alcuni pannelli, segnato da chiazze scure che lasciano presagire ad un avvenuto allagamento. La situazione non mutua nemmeno nei reparti. Inutili le segnalazioni avanzate dalle parti orienti, ricoverate nell'unità operativa di ostreticia e ginecologia, costrette a camminare sotto un controsuffitto color fumè. Tra le corsie il pavimento è spesso rotto. Al quarto piano, frequentato da pazienti di ortopedia, in alcuni tratti è letteralmente staccato. Di certo, poco sicuro, perché ci cammina sopra. Sono una costante, invece, i condizionatori non funzionanti e con parti mancanti, dislocati in ogni area dell'ospedale. Quei moduli precari sembrano fare da cornice al degrado dilagante. Non va meglio gli ascensori, sporchi e pieni di graffitti abusivi. Scritte, inzenzate e offerte involontariamente, anche agli incolpevoli pazienti distesi sulle barelle per raggiungere la sala operatoria. I soliti bene informati preferiscono puntare l'indice contro la mancanza di controllo, una carenza che consente a chiunque di accedere indisturbato in ospedale, anche ai bambini. Lo spettro del disagio non risparmia nemmeno il pronto soccorso, porta di accesso per l'emergenza del territorio. Il rinnovato reparto mostra lacune strutturali negli angusti locali inaugurati con l'allora direttore generale Carmelo Iacono e l'attuale Luciano Fiorella. Il triagi ospita pazienti ambosesso e la camera calda non è mai entrata in funzione. Accortezza che costringe le ambulanze a condividere la rampa di accesso con gli incauti utenti che ignorano il percorso pedolare dedicato. Anche in questa circostanza mancano alcuni pannelli del precario controsoffitto che caratterizzano l'ingresso al pronto soccorso. Preoccupa, e non poco, anche la struttura in cemento armato delle scale di emergenza, dove le chiazze d'umidità hanno liberato sezioni di ferro arrugginito. Non sta a noi metterne in discussione la stabilità strutturale, nessun allarmismo. Ci limitiamo a descrivere una condizione che apparentemente preoccupa e imporrebbe maggiore attenzione. I tagli alla sanità forse spingono i vertici espressioni della politica a voltarsi dall'altra parte. Il bilancio delle strutture sanitarie di via Palazzi e di via Butera, dirette rispettivamente da Luciano Fiorella e Vito Milisenna, è di una lunga serie di disagi che merita la giusta attenzione da parte del management dell'ASP di Caltanissetta, diretto dal commissario straordinario Maria Grazia Forneri. La mancanza di un ufficio stampa e l'imbossibilità di contattare i responsabili dell'ospedale di via Palazzi non ha consentito di avere una replica. Rimaniamo a disposizione del management dell'ASP di Caltanissetta.